Quale gioia, quando mi esserò, la prima casa del Signore, e allora i nostri piedi, a che morte è Gerusalemme, Gerusalemme ricostruita, come città salta e compatta, la salvo non si è vero del Signore. La tribù del Signore, secondo la regia di Israele, perdonare il nome del Signore, ma sono posti i seggi del Gesù, i seggi della casa di Davide. La tribù del Signore, dove andate pace, pace per Gerusalemme, si è pace a coloro che ti amano, si è pace sull'attività, sicurezza, ne puoi da parte, ai miei fratelli, miei amici, e io dirò su di te, se pace per la casa del Signore nostro, e io chiederò per te il bene.